Panchetti abbiamo, io andrei più a col 27 giocatori e poi con l'altro, anzi forse era meglio il contrario, vabbè Eeeh, no, non il mio account, vabbè ragazzi, che pacchetti ha scolato, vabbè, nel 18 3 più ragazzi 10 giocatori e 3 più, allora questi possiamo buttare sopra tranquillamente, giusto? Questi pure li possiamo girare nel chill Dici, eh, dico, dico, che ecco, dove devi andare senza leone, zi? Dove, dove? Com'è Mbappé, ragazzi, com'è Mbappé, è un animale, è un animale, è un animale, è troppo, troppo devastante ragazzi Allora, francese, chi ha la destra? No, dai, eh, peccato, eh, vabbè, niente ragazzi No, magari beccavamo questo Dembélé, sarebbe, eh, sarebbe essere il top del top ragazzi, magari Il grande Dembélé, e invece, nada de nada Nada de nada, eh, non ce l'ha droppato ragazzi Niente da fare, vabbè, Castiglio, va bene Vediamo ragazzi, francese, TS Ah, peccato, poteva essere Mendes E, eh, io dico che, no, no, gasa ragazzi, la voglio Eh, mica male, oh Ci sta, ragazzi Ci sta, ci sta, ragazzi Gas è come, ci mancherebbe altro Loco Oh, il grande luco abbiamo qua ragazzi, attenzione Il grande luco nazionale Dici che l'ho droppa, Andrea Io dico di no, sì Secondo me, secondo me no, fratele Allora Eh, affogati Che cosa sto leggendo Ho letto, ha letto accanto No, magari Ma l'isidio, magari Ho letto da affogati Bellissimo Grazie, grazie mille Sì, apri tutto, apri tutto Eeeh, vabbè Caprici sta Prendi da ridere È nascolato È normale Ma ci sta, sì Ma che te frega E ci credo, Andrea Puoi invidami quando vuoi Ovvio che sì Non so chi è questo ragazzo Però può aprire, che ecco Una bella challenge facciamo Vai, tipo Vai, tipo Tipo, tipo, tipo Vai Ce sto, eh Se vuoi ce sto, eh Eeeh Ci sto se vuoi Ehi quando vuoi Disposizione Beh, non male, Andrea Grazie E te come va? Tutto bene? Come stai? Saga Ho già vinto lo sculo Ho già vinto Esatto, Andrea Esatto, esatto Allora Eeeh Sì Quello sì Ovvio Ma no Raga Io quando trovai Ehi Quando trovai tre volte Ronaldo Presidente di quegli insulti Quando trovai Ronaldo Momente costava 15 minuti Ma rin Cioè Raga È normale Quando scula Deve essere insultato Raga Cioè Ci sta È ovvio Mazza Io mi ricordo Quando beccai Beccai quel Ronaldo Moment Che stava 15 minuti Presi avanti quegli insulti Fabio era il primis Che su Discord Mi stava insultando Eh Vedi Tunus Eh Ci sta Ma quando prendi Insulti per le sculate È bello Che te ne frega Ti diverti Fra Ti diverti Ti diverti Sì Oh ma è giusto Che sia così Dai È normale È normalissima Raga Attenzione Vediamo un attimo Che scuriamo di qua Ehm Rima Madrid Eh Ci sta Ci sta Su quantità Praticamente ci devo Pensare di insultare Ma sì Ecco Un altro Tiago Santos Ragazzi Sembra che Troppina ste Dopo Sabo e Giabaica Quello vuoi Sì Francese TS Attenzione Chi è questo? Uh Loco 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 Mamma mia Rio Vamos Si parte Signori Eh Si parte Allora Odegaard Eh Ma la connessione qua È molto precaria Comunque Showdown Di Europa League È molto interessante Quell'Ederson 54k Costa Non costa niente Quell'Ederson Eh 54k Sta Ma non costa nulla Ma figurati Se fa easy Se fa easy Ma non costa nulla Ragazzi Si fa Si fa tranquillamente Però Certo E poi mi dammi Pelle Ci mancherebbe altro Bomber No Sta con la scocca La connessione Secondo me Non è Insomma è roba di Connessione Non è roba di server Questo Potrebbe essere roba di Connessione Direttamente Sì Vai vai Apri Apri tutto Si apri tutto Bentaleb Il celebre Signori Il celebre Il grande Bentaleb Vediamo che c'è Che c'è Abbiamo lì sotto Vedi Non si riesco un po' Ad apri i pick Quello è l'unico Problema ragazzi Non si riesco un po' Toz Garantito Ligan Signori Terzino a destro Portoghese Iniziamo con un Mendes Iniziamo con un Mendes Ah no È Tiago Santos È Toz Ligan Garantiti Usciti stasera Vediamo Donnarumma Ok Gigio Che comunque È un buon portiere Si può utilizzare Gigio ragazzi Attenzione Francese TS Vediamo chi c'è Questa volta Forse Lamellio Mendes TS Ah ragazzi Loco 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 Dobbiamo trovare Mbappé L'obiettivo principale Deve essere quello Di andare a trovare Mbappé Intanto qua Abbiamo Golovine Che la deputano Mezzo mezzo Ragazzi Non è niente di che Golovine Se volete provarlo Ma niente di che Vabbè Salame la collo Va bene Va bene Va bene Intanto 32 Sub ragazzi Mancano Attenzione Sì sì Puoi apri direttamente Eh ma lui non apre Sì Quello è il problema Clicca X Bomber No perché altrimenti Si bugga Qual è il problema Uh Smith Ovviamente ragazzi Sub regalata Ci mancherebbe Vip al canale O artista Quello che volete Per chi trova Mbappé Quindi vediamo Chi riesce a trovare Questa è quasi Mbappé Mezzo mezzo Ma non è una win Chiaramente Tanto c'è però Sti pacchetti Nel chill Ragazzi E non avevo visto Effettivamente Quel Donnarumma Ragazzi E Dov'è Eccolo qua Questo qua Dov'è essere Giusto No questo è Golovine Questo è Mendes Svizzera Non è lui Golovine Donnarumma Eccolo qua Il grande Donnarumma Goloso Ragazzi Vabbè Diciamo che ci può stare Comunque Ci può anche stare Vabbè Meglio di niente Ragazzi Sicuramente Il grande Dota furioso Signori Quanti Ne puoi aperti Ne puoi aperti Un bel po' Ragazzi Comunque Ne puoi aperti Un bel po' Già Chi è che ha Gli altri pacchetti Boys Che cosa Johnny Che ti serve Gazzio Ave base pure Bomme Young Per cambiare Bomme Young Metterei Chi è questo C'è ci Odegaard Va bene Va bene Va bene Cosa No 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 Non ci credo Che cazzo Non ci voglio credere No Di clipare Gabri Non ci voglio credere Dai Dai Si opera Gabri Fammela al volo Fammela Gabri Non ci voglio credere Dai Non ci credo Andrea Tutte lui Ha trovato Holland Tots Mbappi Tots Che cavolo Di account è Che Che cavolo Di account è C'è C'è No Che schifo Che schifo Che schifo No Vabbè Che schifo Dai Che cacchio è Raga Ma mi spiegate Che significa Sta cosa C'è Ma Me la fai Gabri Me la fai C'è Pazzesco Ma ti rendi conto Blaur Ha sculato Holland Lui dite anche Messi i toti Ciccio Ma metti Messi i toti La destra C'è Guardate Che cacchio Sto vedendo Sì Che sto vedendo C'è Holland Hai messi i toti Tutti quanti Trovati Ragazzi Così Ma che sto vedendo Poi dicono Che ci sono accanto Fortunati Comunque Eh sì Perché pensi Che sia finita lì Invece Non credo proprio Sì Non credo proprio Non credo Luca Ma vediamo un attimo Prima cosa esce da questi pacchetti Ragazzi vediamo Vediamo prima cosa esce da questi pacchettini Eh guardatelo Fino alla fine del video Ragazzi No Moli devo dare i punti A Moli Non glielo ho dati Aspetta Hai ragione Moli One moment Scusa Mia così te li do Le cose giuste Ok perfetto Fatemi sapere ragazzi Se dovete ricevere dei punti Che ve li do subito Eh ragazzi Mi raccomando E' andata bene E' andata bene Dai non si può dire niente E' andata piuttosto bene Dai E' andata piuttosto bene Niente Vedi un po' Moli S'arrivati S'arrivati Ma sì Penso di sì Che s'arrivati No Penso che s'arrivati In teoria Non lo so Manco io Cosa abbiamo fatto Non me lo chiedere Non me lo chiedere Allora È allucinante Raga Dammi uno mezzo decente Ok portiere Allora Ehm No 18 3 più sarebbe Ragazzi Il pacchetto 18 3 più sarebbe Ragazzi Facile Vai Ehm Sì sì ragazzi Siamo stati Siamo stati fortunati Con quel pacchetto Perché Non è un pacchetto Che troppo chissà quanto Non ti credere Andrei Cioè Non è che se lo apri Troppo chissà che cosa Sono pacchetti Sì Quello sì Sono pacchetti Ragazzi Più che altro Per il meme Quelli Dice a 3 più Vamos Certo che potete invitarmi Ragazzi Quando volete a disposizione Ci mancherebbe Cioè Più che altro Sono pacchetti Che uno fa No Per ridere Per Smaltire un po' Di robetta Non è niente Di Di che Ragazzi Sono pacchetti Clamorosi Sicuramente Non sono pacchetti Clamorosi Però ci stanno Ragazzi Vediamo Ragazzi Vediamo cosa Riusciamo a trovare Di qua Se non va il link Ragazzi Ma per questo qua Ragazzi Mi raccomando Non sono arrivati Galactic Sei sicuro Come siete messi In classifica Come siete messi In classifica Eh Vedi un po' Si scula sculi Puoi dirlo forte Puoi dirlo forte Sì Non importa Quanto fate in VL Non importa Quanto Che scorravete Se dovete scula Sculate Allora facile E Ah Vabbè Ci sta Comunque Non è neanche male Vediamo Vediamo Che riusciamo a trovare Da questi pacchetti Comunque Ragazzi Vediamo Una bella carta decente Please Allora Vediamo Aspettiamo Vediamo Che riusciamo a trovare Signori Vediamo A me sto Tundus Tundus Allora Tundus 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 Allora Attenzione 10 83 Più Non lo dire Gran voce Gabriks Non lo dire Gran voce Gabriks Non lo dire Fidati Nascondi Nascondi Nascondilo Zì Nascondilo Eh Si che puoi invitarmi Andrea Tanto qua sto io Quando vuoi Potete invitarmi Quando volete Ragazzi Ci mancherebbe Altro Invitarmi che ci buttiamo Sì ci buttiamo un'occhiata Andrea Che cos'è TS Dai Dammeni uno buono Ragazzi Dammeni uno mezzo decente Dammeni uno mezzo decente Please Che cos'è Busta Busta Eh Eh Insomma Ragazzi Niente di che Niente di che Ragazzi Nel 4-3-2-1 Come punta meglio Holland Holland Hoffman Oppure Edus Chi pensi vinca Eh dipende Chi pensi vinca Sì Dipende Chi pensi vinca Sì Eh ci sta ragazzi A chi le trovate Babbè A Gabriks Al mitico Gabriks Nazionale Eh ci sta ragazzi Ora vediamo Che cos'è Ah Francese Attenzione Chi è questo Marsiglia Ah buono Klaus Vabbè Neanche brutto Dai Neanche brutto Posso anche starci Il grande Klaus Nazionale Signori È vero È vero Andrita Neanche male Comunque Eh No 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 Il giveaway Non lo faremo adesso Ma lo faremo direttamente No Non lo faremo adesso Il giveaway Ma lo faremo direttamente Poi lunedì Razzie Klaus è carino È vero È vero Portugal Allora Batta prima che faccia cassini Tudos Tudos Arrabbiati con questa bottiglietta Tudos Tiago Santos Attenzione L'antena Sto a trovare Lo so Lo so Allora Sotto Lillipip Francesco GDC Andaccia la miseria Ragazzi No vabbè Questo è scandaloso Dai Scandaloso Scandaloso Zio Scandaloso Possiamo dirlo Diciamolo 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 Ragazzi Diciamolo Bella Miki Bella Luca Posso dirlo Diciamolo Ragazzi Scandaloso Dai Tazzele cane Via Diciamolo Diciamo di sì Ragazzi Allora Chi ha trovato Vabbè Lasciamo perdere Da che pancchetto Diciamolo Da che pancchetto Diciamolo Kinga Kinga Tazzele cane Vediamo Che Luca Capra Sto pancchetto E poi vengo Da te Eh sì Ragazzi Dobbiamo andare Belli fast Tutti quanti Lì accanto Vabbè Pino Tiri un gol Ah L'hai visto Tutto quanti Il video L'hai visto Allucinante Holland Toz Vabbè Toz Va bene Va bene Va bene Cosa No 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 No